Al via il sentiero dei vini, un viaggio alla scoperta del vino di Palizzi tra musica, cibo e tradizioni. L'eterno conflitto nicciano tra spirito dionisiaco e spirito appollinio sembra risolversi qui a Rocudi nella discussione che riguarda il futuro della rete vitivinicola locale. In fondo, in un bicchiere di vino, oltre a nascondersi la felicità, c'è anche l'opportunità di accedere eventualmente a verità altrimenti inaccessibili. Oggi abbiamo coinvolto sette aziende vitivinicole che sono tra le più note della nostra zona. L'iniziativa oggi è incentrata sulla promozione di un calendario di date che vedrà il vino al centro. Infatti il progetto si chiama Sentieri di Vini, è stato finanziato dalla Regione Calabria con un nostro piccolo cofinanziamento. Questa sera intratterrà un po' tutti noi l'esperto, l'agronomo, l'assaggiatore Onav che è Rosario Previtera. Ci dà la possibilità al contempo di promuovere delle attività che possono fare tanto per il nostro territorio. Oltre che a darci pure un po' di buon gusto e quindi arricchire le nostre tavole. Professore, al di là del simbolismo sul vino, quali sono i suoi pregi? Il vino è comunque un prodotto che, oltre ad essere uno status symbol, è il prodotto che rappresenta il territorio. Un vino dopo IGT, oggi dopo IGP, comunque il prodotto tipico per eccellenza. È stato negli anni, nei decenni, un prodotto alimentare in quanto energizzante. Lo hanno utilizzato tutti gli agricoltori per il lavoro dei campi. Oggi sappiamo che il vino, il vino rosso in particolare, fa parte della dieta mediterranea. È un prodotto ricco di antiossidanti, di resveratrolo, che è un'altra molecola importantissima per l'organismo umano. E comunque sappiamo che tutti coloro che arrivano ai fatidici 100 anni, ci dicono comunque che il bicchiere di vino a pranzo è d'obbligo. Questo ci fa capire che continua ad essere un alimento ed un elemento importante per la dieta quotidiana, oltre ad essere comunque un prodotto importantissimo che è ambasciatore dell'Italia e di ogni territorio nel mondo.